Marie, cosa c'è che non va? Perché stai piangendo? Non so come sia potuto succedere. Mi dispiace tantissimo. Cosa intendi allora? Cosa è successo? Si tratta di Luca. Non so come spiegartelo. Cosa sta succedendo? Basta dirlo. Haber promettimi che non ti spaventerai. Ok, lo prometto. È giallo. Cosa hai fatto? Mi hai promesso che non ti saresti spaventato. Come faccio a non essere spaventata? Il nostro bambino è giallo. Cosa facciamo adesso? Dobbiamo andare subito in ospedale. È successo qualcosa oggi? No, niente di speciale. Ha mangiato qualcosa? Non che io sappia. Ok, il dottore ci aiuterà. Ciao, abbiamo un disperato bisogno del tuo aiuto. Cosa sta succedendo? Nostro figlio è giallo. Cosa intendi con questo? Il colore della sua pelle è giallo. Dovrebbe essere divertente? Tesoro, dammi il bambino, per favore. Dai un'occhiata qui. Oh mio Dio, è davvero giallo. Pensavo fosse un brutto scherzo. Vieni con me. Dobbiamo vedere subito un pediatra. Ciao miei cari. Sono il dottor Froleich, come posso aiutarla? Ciao dottore. Non so come spiegarlo. Farei meglio a mostrartelo. Quello è nostro figlio Luca. Tuo figlio è giallo. Questo è esattamente il problema. È sempre stato così? No, è così solo da stamattina. Hm, fammi pensare per un minuto. Suo figlio ha forse mangiato troppi limoni? No, non mangia limoni. Ha forse guardato troppi Simpson? Dimmi, stai scherzando in questo momento? Rilassati, voglio solo alleggerire l'atmosfera. Basta con gli scherzi. Intendo sul serio. Cosa ha nostro figlio? Probabilmente ha solo l'ittero. Ora lo porto con me e lo sto esaminando. Possiamo davvero fidarci di te? Sì, non abbiate paura. Fidati di me, torno subito. Speriamo che vada bene. Allora dottore, cosa ha nostro figlio? Avevo ragione. È solo una forma lieve di ittero. Questo può essere curato? Sì, non dovrebbe essere un problema. Devo solo fare una piccola iniezione a Luca. Dopodiché, è come nuovo. Ci sono effetti collaterali? No, è assolutamente sicuro. Non preoccupatevi. Ho tutto sotto controllo. Ok, ci fidiamo di te. Ha funzionato? Sì, credo di sì. Ma perché non cambia colore? Bella domanda. Gli darò un'altra dose. Anche questo è sicuro? Sì, certo. Assolutamente sicuro. E abbiamo finito. Oh, oh. Cosa è successo? Perché Luca è improvvisamente blu? È normal? Io a... Sistemerò tutto. Non preoccuparti. Andrà tutto bene di nuovo. La mia ipotesi è stata confermata. Non ho idea di cosa sia successo a... Allora dottore, cosa ha nostro figlio? La verità è che non ne ho idea. Come fai a non averne idea? L'hanno reso blu. Mettila via di nuovo. Anche prima non era normal, ma giallo. Guardatela positivamente. Presto avrai tutti i colori dell'arcobaleno. Inoltre, il blu è molto più bello del giallo. Non la pensi così? Ti denunceremo. Allora perdi la licenza. Nessun problema. Li ho persi due anni fa. Lavoro qui solo volontariamente. Vieni Marie, andiamo. Spero che non ci rivedremo mai più. Grazie, lo spero anch'io. Hai visto il medico? Sì, ma il dottor Lustig non ci ha davvero aiutato. Il nostro bambino è blu adesso. Chi è il dottor Lustig? Il medico da cui ci hai mandato. Non conosco nessun dottore divertente. Ah, lasciami in pace. Troverò un'altra soluzione. Comunque nessuno mi sta aiutando qui. Ok, buona fortuna allora. Cosa facciamo adesso? Il nostro bambino è ancora blu. Troverò una soluzione. Te lo prometto. Cosa c'è che non va con Luca? È blu. Luca ha una malattia rara. Sei già stato dal medico? Sì, il dottore ha solo peggiorato le cose. Cosa facciamo adesso? Troveremo un'altra soluzione, Lisa. Vieni con me, Lisa. Salveremo tuo fratello. Cosa stai facendo? Troverò sicuramente una soluzione su internet. Lì puoi trovare soluzioni a tutti i problemi. Sì, ma non ci sono anche molte sciocchezze su internet? Non abbiamo altra scelta, Lisa. Sto iniziando la mia ricerca adesso. Cosa devo fare se il mio bambino è blu? C'è un contributo interessante. Witch78 scrive di avere una soluzione. A quanto pare, devi prepararti una cura da solo. Ma per questo hai bisogno di alcuni ingredienti rari. Qui dice che hai bisogno di un fungo blu e qualche erba. Dove dovremmo trovare un fungo blu e delle erbe aromatiche? Dobbiamo entrare nella foresta oscura. Ma li fa paura, papà. Mi dispiace molto, Lisa. Ma non abbiamo altra scelta. Hai trovato qualcosa, Lisa? No, purtroppo non ancora. Aspetta un attimo, cos'è quello a terra? Sembrano le erbe di cui abbiamo bisogno. Molto buono. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno ora è il fungo blu. I funghi sono sempre vicini all'acqua. C'è un ruscello là dietro. Forse troveremo il fungo lì. Guarda, c'è un fungo. Ed è blu. Deve essere lui, Lisa. Impacchettalo. Poi ce ne andremo da qui. Cosa vuoi fare con il fungo blu? Vogliamo produrre una cura. È composto da erba bianca e da questo fungo. Non può essere così. Questo è un fungo blu. È estremamente velenoso. Aspetta un attimo, sei una strega 78? Sì, lo sono. Sei il ragazzo con il bambino blu, vero? Sì, proprio così. Ho ancora un po' della cura che mi rimane. Puoi averlo. Grazie, sei davvero gentile. Hai trovato qualcosa? Sì, abbiamo incontrato qualcuno. Ci ha dato questo. È sicuro? Non abbiamo altra scelta. Ok, dai la medicina a Luca. Ha funzionato. Sì, dobbiamo ringraziare Witch78. Chi è la strega 78? Ah, non importa. Hai ragione. La cosa principale è che Luca è di nuovo sano. Con che frequenza il dottor Lustig somministrava le medicine a Luca? A, una volta. B, due volte. C, tre volte. Scrivi un commento.